Sì, oggi secondo me è una buona partita da parte nostra, abbiamo subito tanto, forse un livello superiore da parte degli altri perché hanno una fisicità diversa, hanno spinto bene in battuta, forse potevamo sfruttare qualche contrattacco meglio, però secondo me siamo entrati in campo con il giusto approccio, ce la siamo giocata fino al 23 dei primi due set e magari portando a casa il primo set sarebbe potuta cambiare la partita. Però prendiamo tutte le cose positive di oggi e cerchiamo di continuare il nostro percorso, pensiamo già alla prossima anche Castellana in casa, speriamo di fare una buona settimana in allenamento e portare a casa punti davanti al nostro pubblico.